Potente appara ragazzi, qua ho Axel, oggi è venuto, oggi sono al sole e sono qui a presentarvi il mio veloce video Che ragazzi sarà un pack of the day, un po' più articolato perché appunto non aprirò solamente un pacchetto Ben sì, aprirò magari due o tre, ma forse anche quattro Però ragazzi ci teniamo appunto a dargli una spiegazione, spiegazione di che cosa? Del motivo per il quale io vi sto portando questo pack of the day sul primo canale e non più sul secondo Ragazzi lo faccio semplicemente perché oggi non ho fatto nessun video Dato che non ho tempo magari di farne uno un po' più ambivo, più speciale come magari un pink ball o un wager match o qualcos'altro Ho detto, io voglio caricare un video sul primo canale e quindi carichiamo questo mini pack opening E poi sfrutto anche l'occasione per ricordarvi di passare dal mio secondo canale Che appunto questa serie lì la faccio quasi ogni giorno, adesso sono stato un attimo meno attivo per la scuola Però si inizierà presto a fare un video al giorno Ecco poi ci tengo anche a chiedervi un piccolo favore, magari se potete Proprio scrivete Axel preghiamo per te Perché domani ho l'interrogazione di matematica, quindi una cosa abbastanza tattica E basta, questo qua è l'altro motivo perché io non vi ho potuto portare un video come ho già detto più articolato Poi l'ultima cosa prima di iniziare, intanto iniziamo già aprendo un pacchetto Vi volevo chiedere se appunto vi andava che domani vi caricassi un video su Titanfall Perché bene sì, un magico iscritto che domani ricorderò E appunto nel caso in cui farò il video di Titanfall mi ha prestato il... o meglio mi ha passato Isco, eh, Bardi, Andreolli, eh, eh, mi ha passato la key, diciamo il codice Così che io appunto l'ho scaricato e lo sto utilizzando E devo dire che mi piace altamente, quindi se a voi va Io vi caricherei molto volentieri un video su Titanfall Quindi fatemelo sapere nei commenti Ragazzi, primo pacchetto l'abbiamo aperto, non abbiamo trovato niente E però noi dobbiamo andare a aprire minim... No, non abbiamo trovato niente, abbiamo trovato Isco, ma stiamo scherziamo No, abbiamo trovato qualcosa, sono abbastanza felice Anche se si venderà... Scusate, a duemila crediti Noi ora già in piano... Oddio, buschezza, ragazzi, ma... Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Giocatore valutato 85 nei pacchetti Niente affatto male Eh, no, eh E a casa mia si dice Quando due pacchetti sono belli Il terzo lo è ancora di più Quindi io andrei subito al terzo E vediamo chi troviamo Ah, ecco, poi mi volevo anche scusare Che non ci sia la facecam Me ne stavo scordando Della non presenza della facecam Ma è una cosa un po' ambigua Il terzo pacchetto troviamo Fazio Oddio Abbiamo trovato Fazio Ragazzi, non posso farlo finire qua Bisogna trovare un buon giocatore Prima di concludere questo back opening Quindi ora andiamo a aprire il pacchino maggio E se troviamo un giocatore d'oro Nel pacchino maggio Cioè, io chiudo l'Xbox Chiudo l'Xbox Andiamo a vedere E andiamo a vedere E poi Anche se ha l'occasione Ormai questo video si chiamerà La Anzi no, si chiama Colgo l'occasione E per chiedervi appunto Magari consigliatemi delle canzoni Infatti non ho trovato nessun oro raro Da utilizzare come sottofondo dei video Quindi, boh Scrivetene come Oggi dovete scriverne i commenti ragazzi Dovete pregare per me Scrivermi se volete il video su Titanfall E scrivermi una canzone E ultimo pacchetto ragazzi Falcao no Falcao no Quando il gioco si fa duro a trovare qualcosa nei pacchetti Ci pensa Arturo Cioè, è venuto qua proprio È per noi Only for us Vediamo Vediamo Jumpiamo Io jumperei Io jumperei E E che schifo E che schifo Però Non posso aprirne altri Perché con quei crediti Devo fare delle magicate Che vi farò sapere Quindi ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Magari arriviamo anche ai mille Io mi accontento Anzi mi straccontento Se arriviamo a mille mi piace E scrivete nei commenti per favore Tutte le cose che vi ho chiesto E detto questo Io vi saluto E vi dico potente A pala ci sento Al prossimo video Bolla Grazie a tutti